buona sera allora siamo qui uno speciale molto importante chiamamolo speciale ma non è uno speciale solo un ringraziamento che faccio a tutte le persone che mi hanno diciamo aiutato e sostenuto in questo anno di live su twitch faremo un po una piccola lista delle persone mi hanno sostenuto così li ringrazio subito spero che il video vi piaccia e che riuscirò a fare un po riassunto di tutte le cose che sono successe partiamo subito con due anzi preciso l'ordine delle persone non è in base all'importanza che hanno all'interno dello streaming e a quanto mi hanno sostenuto però c'è chi è stato più presente chi un po meno ma non ci interessano queste cose passiamo subito a ringraziare la gente due leon dl zero sempre presente fa un sacco di cose utilissime clip montaggi immagini per instagram un sacco di cose interessanti cochin 92 lanciatore di pizze su league of legend venom taz di t dark ray 93 jimbe 97 che non sento tantissimo però mi dispiace purtroppo tra lavoro e cazzi vari non ci riusciamo a beccare ashley gianluca 915 o 915 la adovs un altro streamer molto grande mi aiuta sempre che cerchiamo di creare qualcosa insieme e con dust to dust ice reaper sempre presente anche lui top donation e modder del canale dall'inizio un grande grande ragazzo che sta iniziando a essere mare anche lui quindi se volete passate anche da lui kyle vibbow a proposito kyle è uno di quelli che ha vinto la gift card che avevo fatto di steam da 5 euro quindi ok ha vinto anche lui salazar sir salazar come volete o come capisce meglio lui shen 95 anche lui un altro vincitore della gift card di steam prax mainfist kiroku ho anche detto raffaele se non sbaglio francescone francesco che mi segue da instagram un altro grande ragazzo che gioca anche lui a brawl stars abbastanza bravo buba o penny o luca comunque anche lui è presente mi aiuta in modo suo a modo suo però mi aiuta e poi cms colui che ha fatto anche il l'intro del del mio canale youtube un altro grandissimo anche lui raffaele e quindi adesso passiamo al video spero di aver detto tutto e di aver ringraziato tutti questa spazio là sta cosa oh attenzione ha vinto kyle ha vinto kyle vedranno mai altri beat kyle ma grazie veramente mi hai donato questo è tipo un euro grandissimo ci stanno comunque è gentilissimo sei top play aia fermate che se ne andato da un quarto d'ora e che vuoi da me quella la combo faccia di cazzo e poi da me e se tu non sai come funzionano queste armi la colpa è la mia ho capito ma a me sta almeno da un quarto d'ora levate no idiota è una combo glielo regge il computer suo attenzione sì ma ora non c'è sì vabbè ma non può essere che questo quando esce fuori dal buco sottoterra esce se tu fa pesce mi ha fatto tantissimi danni ecco morì clippatemelo se non l'avete clippato prima guarda quanto è bello che si scontrano e fanno accornate ha vinto quello nero sì che così devo fa più danni dopo dai e perché che sono grosso sei morto e vabbè quindi sono solo io nemico abbattuto impara quell'altro ok anche se l'ho imparato tutti quando vedo io esce preso il testo l'ho imparato come no finestra si è buggato tutto quante finestre vedo due ci stanno mille federichi report federico a fine partita come faccio Oh, si è sbloccato qualcosa Ok, modifica Non vedo niente Non vedo niente ma riuscirò a modificarle uguali No, no, non è questo No, come faccio? Ah, questo, questo e questo Come faccio a cambiarli? Ok, mi si è sbloccato un pezzettino in più E poi questo Forse ho messo giusto No, questo non è quello giusto Ok, ci sono Sono troppo forte, cazzo Sto fomentato a bestia perché sono troppo forte Ok, adesso vedo tutto, ho quasi accato Non ho vinto Salva Forma pure il robot mio Eh, ma ho fatto un po' di farlo Ah, non lo so, io lo so sfigato Sì? Ho quasi morto Sono morto Ho usato il dopo Sto coglione di merda Che culo credo che stava a fare qualcosa di molto brutto Invece no Ha dato una semplice spallata A poste no Ma c'è Punta sempre a lui No, vabbè, resta rosica tantissimo 80 Ok, me la collo Mettiamo la pietra Mettiamo la pietra Attenzione Mettiamo la pietra Fallito Giusto? Fallito Ora per il più 9 Fallito Perfetto Perché? Ah, oh Andiamo a tutti i cucchioli Madonna Si rica Non Gennaro contro Riven Non Gennaro contro Malpite Senti questa Mi sento questa La insegna La inseguo Fino Che puttana T'ha trollato T'ha trollato La palla di neve no No, facevo il 물론 Mi facevo addosso Venga ando Vem No Tantantoda Tantantanta Tantant editing Tanto hai vinto, vai, rifacciamo, tirate più in l'aria il punto su l'hai messo no, non lo metto più vai, gira l'ho preso, l'ho preso vado a flipare, aspetta ah, ma io dovevo affrontare così pure questo scusatemi, perdonatemi, è stato più forte di me abbiamo appena aperto 30 bus e una sola leggendaria secondo me nei prossimi pacchetti ci dovrebbe essere qualcosa Davide, che ne pensi? penso che non... no ok, allora io avrò un pacchetto e trovo una leggendaria vabbè, uno eh ho vinto su tutti, fai questa clip subito subito non è possibile non è possibile manca a farla apposta BAM si, si, si guardalo come me cuscia sto coglione raga, raga, back, 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 non dobbiamo morire no, pedidi, bella che cosa? ma che te pensi? che cosa? dovevo rimpostare i tasti? stai tranquillo torretta, torretta mi senti che vuoi il player buono, buono tutti a casa tutti a casa migliore chi è che era? chi è? mafis, mafis ma ce la fai a mo' chiude sta partita da vincita? cochi, salva quell'inibidor, cochi ma che cazzo ma chi cazzo è? ma chi cazzo è? cochi ti ho detto salva l'inibidor, no sopra li però eh vabbè ok ciao ciao ciao